Bella ragazzi, sono il prossimo episodio di Digimon Adventure Riprendiamo dove ci siamo lasciati Quindi, siamo verso il distritto di Arumi E... vediamo, ragazzi, vediamo Viaggio verso casa Lasciamo così, va Anzi Informazione Merca merda Facciamo così, va Viaggio verso casa, vai Che quindi hanno propriamente saltato Tutte le scene del ristorante lì dove Stavano mangiando Addormentati? Ah, ah sì, della metro Ciao, qui hanno saltato un botto di roba Cioè, quindi qui hanno già utilizzato la metro No, qui hanno tolto Una buona parte qua, invece Vabbè Eh, si torna indietro Ah sì Ah, così Non funziona, credo Ma c'è una cassa là in fondo Eh Che... Eh... 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 Ma è fare l'autostop quello? Dillo Matt, è vero? Non, non c'è l'auto tutta non è vero il primo non è vero non è vero ora mi chiamo e mi chiamo ok i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi i tuoi Cosa vuole dire Izi con quella frase? La stessa auto Cioè la stessa identica auto Ha fatto il girotondo Della cosa 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 Oio Cioè ma non è morto? Fai il graffio va Sam Uuu livello 26 Patamon Uuu Alle tentacolo strisciante addirittura Cioè ma non è morto Quindi abbiamo già finito? No dai Ma sono 8 minuti Sono 8 minuti Sai cosa ne facciamo due uniti vai Chi se ne frega Doppio episodio oggi Ok quindi Tai e Kari riuniti E siamo finalmente odaiba E solo noi? E dai ma che povertà Tai e Kari riuniti E avanti allora E avanti allora A farle visita A presto Devo dirti una cosa Che cosa Tai? Doran poi sei un peluche Cioè devi fingere di essere un peluche Un peluche Un peluche Voglio dire Non puoi parlare o muoverti di fronte alle persone Ricevuto Sono un peluche Detto anche peluche Sono preoccupato Ehi No dai ma è brutto Senza Koromon però Ultimamente non riesco più a catturare insetti Libellule, cavallette, cervi volanti Cervi volanti? Come qua Gamon? Non parlare Scarabèi, rinoceronti, insetti Inseti stecco e scarabèi giapponesi Grazie al cielo non ha sentito Oioioi Ah Tai Ehi come va? Il clima è sempre più strano Non trovi? Prima fa caldo Poi fa freddo Lo so bene Sono dovuto tornare dal campo estivo Per Ah per colpa di una tormenta Dopotutto Così non va proprio bene Perché? Dovevo prendermi cura di alcuni fiori Ma in questo Mondo Appasseranno subito È un grande problema Un problema? Quale Digimon? Ti avevo detto di non parlare Ah la bambola ha parlato No ti sbagli Però Noi siamo terrestri Vedi? Ero io a parlare Davvero? Beh non importa Ma che cos'è? Questo però è un uomo Infatti adulto Fa tanto caldo Ultimamente fa davvero tanto caldo Perché è estate giusto? Sì ma fa troppo caldo Più del normale Caldo? È Meramon? Che stupido Ah stupido Stai zitto Se gli ha messo la mano davanti Cioè Gli ha messo la mano davanti alla bocca Eh? Quella bambola Sbra Io O si è mossa? Ovviamente no Comunque fa troppo caldo Seriamente Vedo le bambole muoversi Ufff Eh beh beh dai Però queste scenette Sono Sono belle Cioè scenette Questi Mini discorsi Ah dai Sei già giornato dal campo estivo? Sì A causa del clima anomalo A proposito di quello C'è C'è stata una tormenta improvvisa Vero? Lo ha detto il telegiornale Una tormenta? Era fricci Non per caso Orca miseria Ma non sta mai zitto Ehi Tai Ah cosa fai? Non muoverti Quella È una bambola? Sì Registra i suoni E li riproduce Non è fantastico? È un souvenir per cari Ah per cari È impossibile Che una bambola parli Effettivamente Sì infatti Ah 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 Così Ora se questi conoscono Tai Vuol dire che saranno Vicini di casa Senza alcun dubbio Ma solo loro ci sono Dai io voglio sentire altre cose Ci sono altre persone qua Oltre a quei tre Anzi quei quattro lì Stai a vedere che qua c'è Un box segreto No Ma forse sì Forse non l'ha fatto vedere Ma forse c'è Forse c'è Allora aspetta Di qua dov'è che si va? Dove cacchio si va qua? Ma qui ce ne Ce ne stanno andiamo Ma qui ce ne stiamo andando però Ma è quella casa tua Tai? No la mia è dall'altra parte Sono Sono troppo nervoso Eh? Eppure è semplicemente Ah è semplicemente casa mia Va bene In ogni caso andiamo Sì ma Volevo vedere se c'erano Delle casse Delle Delle casse nascoste Forse qua dietro No Muro invisibile Però se qua Si può andare Signi No però lì Non mi sembra di vedere niente Però Di là Non credo che ci sia niente di particolare Vabbè Allora Andiamo a casa Oh Tai La tua casa è così grande È un condominio Quel palazzo non è tutto mio Lascia perdere Infatti è un condominio È la seconda volta che torno qui Ma Chissà se cari I miei genitori sono in casa Beh perché Non dovrebbero Perché sono così preoccupato? È fatta discretamente bene La madre di Tai Discretamente Perché dice le stesse cose due volte? Vabbè lì è immobile Ci sta Che cacchio Dai Eh sai Quanto tempo Non ha visto i suoi genitori E infatti È cari Hikari Mi 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 E' un po' di parlare, sì. Ehi, Hikari-chan, potremmo hai un device? Un device? Questo è questo! Non hai un device. Ah, sì... Eh, dormi? Che ti devo dire? Eh, sì, dormi? Eh, non l'ho visto. Vabbè, ma tornerà a casa prima o poi Miko. Miko? Miko te nani? Ucide kattiru neko da yo. Neko? Neko te nani? Kondomisseti yari yo. Sa, neyoze. Sì, praticamente hanno chiamato il gatto, gatto. Molta fantasia. Perché appunto Miko significa gatto in giapponese. Cioè, è come se tu ti prendi un cane e come nome gli dai cane. Cioè, che... Logica. Già finito ancora? Cioè, così con... con Miko. Ok, quindi Miko... Non è tornato a casa. Cioè, neanche 20 minuti. Ma che ca... Vabbè, senti. Due episodi, secondo me, fanno più che bene. Allora, con la scomparsa di Miko, direi che per questo episodio di Digimon Adventure è tutto. Vi ricordo che se ne sono ancora iscritti, che ne iscrivetevi. Se volete andare a ragionare sul prossimo episodio di questo gioco all'interno di giochi, mettete un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio di Macron. Nella vostra ricomincia. Ci sentiamo ad un prossimo episodio di Digimon Adventure. Bella! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.